salve gente io sono bleak e questo è melting top è estate quindi mare e spiaggia e castelli di sabbia grossi castelli di sabbia assurdi castelli di sabbia pazzeschi castelli di sabbia pazzeschi ok scherzavo ma chi l'ha detto che con la sabbia si possono fare solo dei castelli rispolverate la vostra anima geek perché in questo video vi mostreremo 40 tra le più belle sculture di sabbia rigorosamente e orgogliosamente nerd vediamo quante ne riconoscerete come al solito vi ricordo che potete sostenerci con un mi piace o iscrivendovi al canale grazie a tutti 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 grazie a tutti